signori buongiorno da giovapizza giovapizza is in the house allora come andiamo? dai fatti bravi condividete su che creiamo un po' di di pubblico no perché già la mia voce in condizioni disastrose almeno ciao ragazzi almeno fate in modo che il rovinarmela rovinarmela ulteriormente per farvi del bene serva a qualcosa no è il video al contrario Alberto non ho mai niente ovviamente quando fai fotocamera frontale inverte tutto dai su su condividete Paolo caro Paolo sangue dolce sono contento di averti in diretta puoi rimanere e magari commenti eh ragazzi in questo campo c'è una marea di scimmie urlanti eh nel campo della panificazione ciao Julien come va e quelli in gamba che sanno quello che dicono sono veramente pochi quelli con le competenze e non con le mani sporche di farina da otto anni che è quello che si pensa che serva per fare il consulente o le robe un po' no non è quello che serve ragazzi serve studiare in altro modo grazie Paolo se hai questi dieci minuti mi fa molto piacere perché sicuramente tu hai una ma molto più spiccia direi Paolo allora cavolo siamo già in una trentina dai condividete che partiamo allora ragazzi una domanda e rispondete i trenta che sono già online condividete faccio arrivare un po' più di gente magari aspettiamo un altro secondo solo così stimoliamo un po' la discussione è una cosa su cui penso tanto ultimamente e mi piacerebbe che si iniziasse un po' a condividere con Suero, Alessandro, ciao allora per chi è in linea domanda ma perché mettete frutta e verdura in frigorifero per chi ha o a casa ma diciamo questo è un discorso rivolto soprattutto ai professionisti no perché mettete la roba in frigorifero e perché le norme HCCP eccetera eccetera vi dicono che dovete tenere i frigoriferi almeno a quattro gradi cioè dai quattro in giù diciamo così ma a quattro per favore voi che siete in linea rispondete perché dobbiamo tenere quelle tempi dobbiamo tenere diciamo mantenere i cibi a quelle temperature dai rispondete su aspetto le vostre risposte e le vostre condivisioni per far passare un po' questo messaggio che secondo me è importante dai scrivete perché dobbiamo tenere la frutta la verdura i vostri belli champignon l'agaricus bisporus l'agrocibe gerita il boletus edulis sono tutti i nomi di funghi a quattro gradi almeno in frigorifero allora rispondete o no so che poi siete già in 50 per il freddo che rallenta la proliferazione batterica benissimo Tommaso has already made my day noi dobbiamo facciamo che Tommaso abbia risposto per tutti voi noi mettiamo questi cibi in cella frigorifera a quattro gradi tre, quattro, tre, due dipende dai locali per rallentare la proliferazione batterica a tentare di fermarla il più possibile o quantomeno rallentare quando abbiamo un impasto noi che cosa dobbiamo fare? in un impasto che cosa ci sono? batteri lieviti, batteri quel cacchio che volete siamo anche un po' generalisti non è questo il nucleo del discorso cosa dobbiamo fare in un impasto? far andare la proliferazione batterica non vi siete mai posti questo problema noi mettiamo i cibi in cella frigorifera per rallentare la proliferazione batterica e oltre a questo cosa facciamo quando siamo dei pizzaioli dobbiamo fare prodotti da 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 mettiamo il nostro impasto il nostro prodotto che deve avere proliferazione batterica in un ambiente che inibisce il più possibile la proliferazione batterica o no? non ve lo siete mai posto questo problema voi che lavorate nel campo ho visto che c'è qualche professionista in linea non ve lo siete mai posto questo problema ragazzi rispondete ormai siete una sessantina che bel pubblico al venerdì mattina neanche alle 10 non ve lo siete mai posto questo problema cioè noi mettiamo i nostri impasti che devono lavorare sulla proliferazione batterica cioè Emanuele in un ambiente che serve a inibire la proliferazione batterica perché sì è vero che non è diciamo che non lo so sulla melanzana non abbiamo il saccharomyces cerevisie e tutto quello che c'è attorno ma il concetto è quello ecco perché ragazzi allora perché cos'è successo? ovviamente quello di cui parliamo adesso approfonditamente sono cose diciamo recenti dal punto di vista delle conoscenze 30, 40 anni fa 50 anni fa ritardiamo gli impasti eccetera eccetera abbiamo un ristorante abbiamo una pizzeria le celle frigorifero ce le abbiamo rallentiamo le mettiamo in frigorifero molto vero molto vero il problema è che adesso le cose iniziano a essere più comprensibili e quindi dovremmo anche trattarle in maniera più approfondita quello che si fa voi immaginate il processo classico per fare la tonda che arriva dalla scuola napoletana impasto puntata praticamente assente quindi strutturazione anche del glutine della forza del glutine e li ciao come stai? un grosso abbraccio e un bacio quindi pensate al processo classico per fare la tonda che arriva dalla scuola napoletana impasto puntata praticamente assente quindi anche strutturazione del glutine e della tenacia dell'impasto quello che è puntata praticamente assente si staglia subito si spallina subito e si va in cella a 4 gradi se va bene se non 3 o 2 con le palline da 250 grammi ma secondo voi ragazzi quell'impasto che diavolo fa? quell'impasto matura correttamente fermenta correttamente lievita correttamente che sono tutti i processi collegati inizia a sprigionare i profumi struttura il glutine no ragazzi voi semplicemente ibernate la vostra massa Paolo se sei ancora in linea correggimi se dico idiozie tu sicuramente hai più voci in capitolo noi andiamo a mummificare queste povere palline praticamente l'unico effetto è tenerle lì ok per giorni mummificate non fanno praticamente nulla infatti che cosa vi succede a tutti i bestie che avete le pizzerie non capite perché le vostre palline diventano pancake quello che chiamo effetto pancake trovate le cassette bagnate potete praticamente tirarle fuori da frigo e quasi stenderle che si aprono tranne se non le avete tenute magari a un grado e quindi sono praticamente congelate eh l'acqua magari inizia a risepararsi di nuovo dall'impasto perché praticamente st'impasto è lì mummificato e non lavora e e lavorate completamente a cazzo senza sapere quello che fate perché perché avete trasferito con degli strumenti moderni cioè le celle frigorifere a quattro gradi un processo che non era nato per il frigorifero nella scuola classica ad esempio della tonda napoletana il tutto nasceva a temperatura ambiente e con basse idratazioni quindi tu quando fai una pallina dà a 55% idratazione anche se fai una puntata poco strutturata poi in appretto a temperatura ambiente al caldo la tua pallina comunque va a lievita fermenta non è ben strutturata ma è asciutta quindi è bella solida e quindi più o meno il tutto funziona ma portato al freddo diventa una roba che non ha senso diventa una roba che non ha completamente senso i frigoriferi ragazzi non bisogna tenerli per la panificazione a 2-3-4 grade perché poi non sapete come funziona un frigorifero che Dio vi fulmini per chi ci crede quando voi aprite un frigorifero mettete che avete la cella A4 quindi siete anche nella fascia alta perché io ho visto celle nei laboratori anche A2 aprite il frigorifero a temperatura sale quando lo richiudete il compressore parte butta giù la temperatura che poi tranquillamente ritorna a 4 cioè voi praticamente queste palline le ibernate consentitemi il termine ipogenerici ibernare nel senso di mummificare bloccare lì senza praticamente fargli succedere nulla di significativo lo leggevo fortunatamente qualcuno in gamba c'è anche della vecchia scuola come Salvatore Costa esatto Paolo come Salvatore Costa che diceva ragazzi ma voi adesso con la moda di idratare a manetta meno lievito è meglio è perché fa male un'altra puttanata che gira meno lievito è meglio è fa male perché fa male non date puntate fate panetti buttate in frigo a 4 gradi ma ragazzi secondo voi che cosa fanno quei panetti ma me lo spiegate con tutte queste cose messe assieme quindi alta idratazione poco lievito e uso del freddo ma cosa pensate che succeda che cacchio fa la vostra pallina e poi mi chiamate tutti giustamente a me va bene io lavoro ah è giovane non capisco la pallina ma qua ma non l'aria non ha aria e non sviluppa e qui e là e certo ragazzi ma che cosa volete che sviluppi cosa volete che sviluppi in questo modo i frigoriferi devono stare a temperature più alte dei 4 gradi in genere per far lavorare l'impasto se poi lo scopo è bloccare completamente non si sa per quale motivo no perché io ad esempio ho visto esatto li devono poi raccogliere col cucchiaio esatto Paolo impasti assolutamente non strutturati in puntata che vengono idratati al 70-75% perché fa figo con lievito assente prendi e butti in frigo ma che ste cazzo di palline che cosa dovrebbero fare poverette che quando aprite la cassetta dopo due giorni vi guardo e dico scusa ma che cazzo vuoi di più cioè veramente assurdo ma perché la gente non sa assolutamente che cosa fa che c'è vuoi bere Fede vai ho scoperto grazie a te da mesi lo metto in atto Federico avrei notato cambiamenti ho scoperto che c'è gente adesso per la moda della biga tutti i costi perché se non fai un prefermento sei un diciamo un uomo meno virile tutte ste cose qua che fanno fare dei prefermenti con lo 0-2% di lievito buttati in frigo ma ragazzi ma che cosa fa quella roba lì cos'è che fa quella roba lì ma che prefermento è ed è gente famosa cos'è che dovrebbe fare quel prefermento col 2% di lievito buttato in frigorifero per 24 ore ragazzi ma noi ad esempio sappiamo che una bella fermentazione di una pasta corretta prendete la biga giurilli è correttamente fermentata cioè noi sfruttiamo a dovere quel prefermento in termini di maturazione sentori acetici alcolici cacchio che volete eh con l'1% di lievito 18 ore a 18 gradi voi mi spiegate una pasta con lo 0-2% di lievito buttato in cella a 4 gradi che diavolo dovrebbe fare cioè voi incastrate delle mode recenti con processi di una volta e fate un mischione completamente inutile che non funziona e che non lavora e questo e questo è un problema tra l'altro c'è un altro problema oltre a quello del fatto che non lavora eccetera eccetera ragazzi mano a mano che si va verso i 4 gradi e ripeto in alcune celle anche sotto noi abbiamo il rallentamento progressivo della proliferazione batterica è come se poi a una certa temperatura il tutto si fermasse ora che cosa vuol dire che l'attività batterica dei lieviti quel diavolo che volete è come se andasse a un asintoto a temperature basse cioè a un certo punto voi qualsiasi cosa fate quella pasta lì la bloccate qualsiasi cosa fate soprattutto dal punto di vista del lievito ok perché io lavoro bene ragazzi quando ho la possibilità di governare il mio impasto in base ai dati di ingresso vedo un risultato diverso alla fine del mio processo in questo caso magari alla fine è solo del primo passaggio della puntata per dire cioè io posso lavorare bene quando se metto due grammi di lievito rispetto a uno vedo una differenza se metto tre grammi rispetto a due o a uno vedo una differenza se ne metto cinque che cosa succede quando voi fate un processo classico come quello che vi ho descritto adesso parlando della tonda al cambiare del lievito soprattutto partendo da quantità basse che non succede niente perché voi quando lavorate verso un asintoto aumentate la temperatura del lievito non succede nulla se voi mettete mezzo grammo di lievito a chilo di farina in un impasto che poi mi va in cella già stagliato a quattro gradi si comporta allo stesso modo di come si comporta se ne mettete un grammo di lievito si comporta allo stesso modo di quando ne mettete uno e mezzo si comporta allo stesso modo che se ne mettete due sempre mummificato lì rimane e poi che cosa succede a un certo punto magari quando ne mettete cinque sei sette o otto boom avete un gradino e allora vedete una differenza e ma in questo modo voi non potete lavorare bene perché voi non potete andare a gradini a scalini è come se foste in macchina e l'acceleratore andasse in maniera discreta invece che continua cioè a scatti cioè voi schiacciate siete fermi schiacciate non succede nulla schiacciate ancora non succede nulla a un certo punto a un certo punto dell'acceleratore che state schiacciando boom partita 50 all'ora e non riuscite a guidare correttamente l'automobile voi avete bisogno che mano a mano che schiacciate l'acceleratore e come acceleratore abbiamo la metafora diciamo dei dati di ingresso del vostro impasto tra i quali più importanti ovviamente è il lievito il vostro prodotto ha risultati diversi ma lavorando in questo modo non cambia assolutamente nulla perché quando andate a lavorare in questo modo buttate dentro in frigorifero a mummificare vicino a zero gradi e se vuoi usare e poi con la moda del poco lievito se voi usate mezzo grammo o un grammo a chilo non cambia assolutamente nulla tra mezzo grammo e due grammi non cambia niente sempre di mummificazione si parla quindi è veramente una maniera molto scomoda ed errata di lavorare ragazzi condividete non se ne parla mai di ste cose le celle chi lavora in pizzeria si deve evolvere non me ne frega niente che voi avete la cella in cui tenete la verza a due gradi ragazzi dovete avere la vostra celletta che vi tenete a 6-7 gradi comunque sopra i quattro in maniera tale da far lavorare il vostro impasto io tantissime vedete che nei commenti c'è già un sacco di gente che lo sta dicendo tanti clienti professionisti che da quando ne abbiamo parlato mettono invece che nella cella a 3-4 la tengono a 6-7 hanno avuto un miglioramento incredibile nei processi nell'impasto che si trovano nella struttura nei profumi e voi buttate il cacchio di pollo qual è il risultato solito che vi ritrovate buttate dentro queste palline queste praticamente non lavorano si mummificano l'acqua inizia a separarsi di nuovo la cassetta s'allaga effetto pancake pallina che va in acido senza mai aver sviluppato un idride carbonico o aver gonfiato o aver dato struttura che si rispetti qual è il problema che spesso voi pensate che vada anche bene perché poi quelle palline sono anche abbastanza facili da da stendere allora il frigo deve essere uno strumento accessorio per adattare il processo alle proprie necessità ovviamente il tutto deve è porca miseria paolo sto cacchio di 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 app non mi fa vedere il resto mi scrivi quello che hai scritto dopo il deve grazie e tra l'altro perché poi è anche abbastanza comoda la stesura di quei panetti se li lasciate un po' a temperatura ambiente loro si smollano dal gelo che gli avete impresso hanno poca aria si stendono facilmente state lì a DJ in 30 secondi lo aprite la pizza alla fine ragazzi parliamoci chiaro la pizza viene e tutti contenti però dal punto di vista prettamente chimico batteriologico e dei processi state lavorando completamente a caso senza far lavorare ad essere calibrato per avere le performance tese del prodotto esatto paolo il problema è che spesso c'è un completo misunderstanding sul quali sono le performance tese del prodotto ragazzi perché esiste questa cosa perché pizzaiolo medio non hai idea di come deve venire un impasto corretto per fare una pizza alla fine dipende da questo ecco perché qualsiasi processo fatto completamente a caso può andar bene perché veramente ci sono alcune persone esatto e vedi paolo abbiamo detto poi la stessa cosa hai scritto esattamente dopo che lo dicevo io la gente non ha idea no e non ha idea dei processi non ha idea del prodotto che deve ottenere una pallina quando è giusta non sa com'è lavora per luoghi comuni ma il problema ragazzi è che questo avviene anche coi professoroni esatto uso 24 48 ore di frigo perché se non matura non è digeribile bravo esatto altra idiozia mi sono permesso di parlarne in maniera esplicita mi hanno dato tutti dell'idiota ma tutti no scusa non tutti tanti mi hanno dato dell'idiota ma gente famosa gente importante questi ancora convinti che i prodotti sono digeribili a 48 ore non ho capito come mai nessuno ha mai rotto le palle a chi fa i croissani in 6 ore con la manitoba non mi pare che nessuno abbia mai rotto le palle i pasticceri che fanno i croissani in 6 ore con la manitoba cos'è i croissani non sono digeribili quando non sono digeribili quando ne mangiate 18 quando sono pieni di grassi che fa schifo quando sono cotti male quando sono fatti male in quel modo non sono digeribili quindi se non volete ascoltare l'ingegnere aerospaziale che magari può essere visto un po' troppo esterno ascoltate il biologo Paolo tu cosa sei un biologo un chimico non mi ricordo cioè è assurdo l'altra moda del meno lievito è meglio è ragazzi il lievito non fa male che diovi fulmini tutte le evidenze scientifiche al massimo massimo ci dicono che può essere protettivo a livello della flora intestinale il lievito di birra non fa male non è che meno ne usi meglio è perché fa male questa moda trasportata dentro le tecniche moderne col frigo è un disastro è un disastro sai cosa riscontro con i clienti con gli impasti inchiodati perché crescono a stare esatto bravo esatto 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 Paolo ma questo è la parte di clienti che lo fa apposta perché l'impasto inchiodato è comodo guarda che è già ridotta perché vuol dire che almeno sono coscienti di quello che fanno ma tutti gli altri lo fanno perché pensano che vada bene così non lo fanno coscientemente la storia del lievito è disastrosa in questo processo nei processi moderni con cui si usa la cella frigorifera ma ragazzi voi quando mettete un grammo mezzo grammo di lievito a chilo di farina andate a usare la cella ma che cosa pensate di fare? ma anche qui ragazzi io non voglio fare nomi anche se potrei farli tanto a me che me ne frega no non li faccio lasciamo stare se no facciamo partire flame allucinanti di gente che partendo da questo luogo comune cioè meno lievituso meglio è si calibra tutto il suo processo e si complica la vita perché ha un vincolo errato io la mia ricetta della focaccia che i miei clienti hanno visto è una roba veramente non lo dico io lo dite voi di una comodità pazzesca di un risultato pazzesco eccetera l'ho calibrata partendo proprio dal fatto che un maestro me ne aveva mostrata una fatta seguendo il concetto meno lievito uso meglio è e io appena l'ho sentita ho notato gli aspetti positivi di quel processo ma mi sono subito detto ma questo che cazzo fa ma perché usa due grammi di lievito a chilo per fare sta roba e si complica solo la vita tra poi devi usare il caldo allungare i tempi in maniera scomoda eccetera eccetera perché non è usato di più e magari usava il frigo e da lì sono arrivato al processo che ho mostrato a tanti di voi ma tanti hanno in mente ancora st'idiozia qua il problema è che quando combinate tutte st'idiozie viene fuori un disastro nucleare perché ragazzi voi combinate alta idratazione poco lievito uso del frigo ragazzi fate un disastro parlo della tonda soprattutto fate un disastro a riprova di quello che stiamo dicendo ti faccio notare che una nota azienda ha messo in commercio un lievito secco ad alta attività non lo chi sono non lo so Paolo non li ho visti e certo chissà perché e ci credo e non li si muoveva niente a nessuno usando sti metodi e hanno detto forse forse meglio che diamo una bottarella non per nulla alcuni semi preparati sennò col bip che gonfi connicioni con le credenze che ci sono in giro esatto esatto parole sante parole sante parole santissime so che un mix famoso per fare pala o quelle robe lì ha già dentro il lievito nella farina che infatti usa il frigo però lì il lievito lo caricano anche quindi mi pare anche abbastanza sensato non so che azienda è non vorrei che sia la stessa sì perché poi la gente è convinta che meno lievituso meglio è ma poi il cornicione come lo gonfi sì magari il cornicione lo gonfi però devi iniziare a usare farine belle pompate amilasi glutine aggiunto acido ascorbico e robe varie ragazzi il lievito è fondamentale per l'azione parlo del lievito perché va di pari passo con le temperature il lievito e temperature sono assieme ok se uso il frigo non posso andare dietro pure alla moda dell'abbassare il lievito se no gli impasti noi vogliamo che lievitino ve lo mettete in testa o no non è vero che meno lievito usate che meno lievito usate meglio è non è vero è una palla il lievito non fa male veramente divulgate condividete non è vero nessuna evidenza scientifica ci dice che il lievito di birra fa male un prodotto da forno fa male o è sgradevole o è indigesto o è quel cacchio che volete voi se il processo viene fatto male se gli ingredienti sono scarsi se il processo è fatto male se la cottura non è fatta bene se ve ne strafogate perché a me anche sta roba della digeribilità mi manda i pazzi ragazzi il lardo è digeribile il guanciale è digeribile ma io se ne mangio un cubetto così lo digerisco benissimo se la sera mi faccio tre etti di carbonara non lo digerisco apriamo un po' di parentesi ma poi sono tutti i concetti che vanno di pari passo gli uni con gli altri perché sono tutte mode che poi si innestano e portano a devastazioni totali del processo voi immaginate il prodotto è buono solo se gli metto un sacco d'acqua metto poco lievito allungo tantissimo usando il frigo ragazzi siete nella situazione ideale per fare solo puttanate colossali perché incastrando queste mode meno lievito uso meglio è più allungo in frigo meglio è più acqua metto meglio è siete nella situazione perfetta per fare solo disastri colossali poi voi pensate se tutto questo si associa una tonda alla napoletana in cui ovviamente più fighi siete più cuocete in meno tempo a temperature più alte cioè qui avete proprio fatto il big bang delle idiosie l'esplosione primordiale delle minchiate ma sì Ferdinando il lievito in cottura muore sopra i 50 gradi qualsiasi povero esserino fa la fine che fa eh sì certo il lievito madre è il prodotto più digeribile che con il lievito di birra certo come no sì sì certo ecco vedete poi io mi mi infervoro sempre però è veramente sono cose sono cose molto molto importanti da iniziare a dire perché soprattutto i professionisti non ci capiscono niente ammazzaruto io con 3 grammi di lievito il mio perché soprattutto i professionisti queste cose non e ripeto a me va bene io faccio il consulente però e ne va di tutti aumentare il livello complessivo delle nozioni e delle competenze importante accresce il valore delle persone che circolano nel settore la qualità dei prodotti e via e via dicendo se voi combinate tutte queste mode fate avete un gran un gran bel mix di problemi se voi combinate queste mode avete un gran bel mix di problemi non è vero che i prodotti sono digeribili se c'è più acqua non è vero che i prodotti sono più digeribili se stanno 4 giorni in frigo non è vero che i prodotti sono più digeribili se c'è meno lievito non è vero sono assolutismi che non trovano un riscontro nella realtà perché le robe sono molto più complesse non sono difficili sono più complesse di queste regole miracolose io mi ricordo vado a fare il corso mi formo come tutti come voi vi formate da me io mi formo da chi penso ne sappia più di me e ragazzi ho fatto questo processo sono venuto qua alle 2 di notte a fare l'impasto così ho messo poco lievito adesso è pronto ma che cazzo sei venuto qua a fare le 2 di notte ma perché non usavi il freddo in maniera intelligente te lo facevi ieri alle 6 di pomeriggio aumentando il lievito perché perché in testa il vincolo ottuso che meno lievito usi meglio è no no così come sarebbe un vincolo sbagliato più lievito usi meglio è non ha vedete che se lo giriamo dall'altra parte ci appare subito assurdo cioè il più lievito usi meglio è ci appare subito assurdo però il meno lievito usi meglio è non ci appare assurdo no perché ci ha messo in testa che il lievito il lievito fa male e quindi meno ne usiamo meglio è non è vero non è vero quindi il problema però del freddo che era poi l'argomento della diciamo della live nello specifico è che verso i 4 gradi 4 3 2 1 ok 4 3 2 1 0 il problema è che i tuoi processi tendono a fermarsi e il tuo il tuo prodotto non lavora e diventi quasi indipendente in certi range da quello che fai e questo non va bene tu non puoi usare un vincolo di processo che rende indipendente un tuo lavoro a priori sul prodotto non so siete ci avete mai fatto caso se voi avete la cella come tanti ce l'hanno a 2 3 4 gradi voi a volte vi vengono i prodotti diversi o no ma senza capire il perché anche se li avete variati cioè non riuscite a trovare un'equazione che vi lega correttamente quello che accade perché se voi avete qualcosa che qualsiasi cosa fate ve la pialla o ve la modifica o ve la pialla e voi come fate a lavorare sul processo per fare in modo di vedere un risultato diverso in base a dati di ingresso diversi e questo è un grosso problema quando lavorate no l'acqua in realtà congela a 0 gradi a 4 gradi cambia la densità sì comunque dai 4 gradi in giù inizia a cambiare la composizione la struttura molecolare dell'acqua perché poi l'acqua è l'unico elemento che rimanendo liquido sopra lo 0 comunque varia la sua densità in maniera inversa scendendo fino a 4 e poi andando da 4 a 0 sì appunto che poi bisogna anche vedere se i 4 gradi sono reali perché cosa succede spesso nei frigoriferi ragazzi che vicino alle serpentine se il sensore di temperatura non è messo dimmi Fede ok c'ho mio figlio che vai se poi il sensore di temperatura non è messo vicino alle serpentine quando lui vi segna a 4 gradi in metà del frigorifero dietro ne avete meno e succede spesso oltre al fatto che se è settato su 4 quando apri del compressore parte scende la temperatura sotto i 4 gradi perché poi lui deve ristabilizzarsi e quindi e allora abbattiamo le palline direttamente le abbattiamo e le teniamo lì per 3 mesi per quando diavolo vogliamo perché poi il riassunto di quello che fan tanti è sta roba qui grazie per tutta l'info che ci dai sei un tesauro una sola cosa non è vero che il lievito rende poco digeribile la pizza non è vero che l'alta idratazione rende più digeribile eccetera ma cosa è vero invece che il processo fatto bene rende digeribile l'impasto prendila bevila però poi me la passi se ho sete che mi strozzo lasciamela qua il processo fatto bene rende digeribile un prodotto lo sappiamo dalla nostra esperienza ragazzi ci sono prodotti vieni tesaurino fatti vedere in diretta telchilmio tesaurino lasciami l'acqua Fede vai se no mi strozzo noi abbiamo un'esperienza diretta su decine di prodotti diversi una piadine completamente diversa da una napoletana che è completamente diversa da una teglia romana che è completamente diversa da una brioche che è completamente diverso da un panettone sono sempre tutti i processi lievitati o no diciamo vabbè ok la piadina no però che comprendono acqua e farina ok con acqua farina e dei grassi se fossero vere queste asserzioni alcuni prodotti dovrebbero essere digeribili altri no invece per esperienza sappiamo che tutti questi prodotti possono essere digeribili o non digeribili ma a seconda di come sono fatti nel loro complesso a partire dagli ingredienti dalla qualità degli ingredienti dalla quantità e dalla qualità di grassi dalla qualità e dai metodi di cottura e da quanto ne mangiate assieme a che cosa e da come state voi nel momento in cui lo mangiate io lo so che poi l'essere umano vorrebbe la risposta risolutiva è digeribile se fai così ma non è così perché io vi posso voi potete anche venire da me io vi faccio il prodotto più digeribile fatto bene del mondo ma voi avete litigato con l'amorosa tre ore prima non mi digerite male con un bicchiere d'acqua quindi ok quindi quale serve la temperatura corretta allora io tra la maggioranza i frigoriferi non sono idone alla conservazione dei cassetti pizza per cui bisogna sempre dare i frigoriferi più ampi che possano favorire il passaggio dell'aria fredda ma la piadina levitazione chimica è torta certo eh sì certo così come le torte no le torte dovrebbero essere tutte indigeribili ragazzi vi rendete conto c'è il lievito chimico gli amidi di cui è fatta la farina per cui usiamo la torta no e che non subiscono tutta la pappardella di cui siamo stati inoculati anche da grandi maestri cioè le amilasi mangiano gli amidi scindono in zuccheri più semplici e quindi non dobbiamo digerirli noi in una torta questo non avviene madonna dovrebbero essere tutte indigeribili le torte non si è mai capito perché nessuno ha mai rotto le palle sul fatto che una torta non sia digeribile ma perché perché non è quella roba lì esatto eh sì in realtà Paolo dice in realtà la digestione è una questione complessa generalmente abbastanza personale le variabili sono veramente tante e il problema è che non riusciamo a riprodurre nel laboratorio a quello che voi intendete con digeribilità com'è che noi facciamo a fare un esperimento a doppio cieco per capire se è una roba è digeribile o no cosa vuol dire digerire una pizza è digeribile che cosa vuol dire se io prendo 100 persone uno mi dice che è digeribile se non fa il ruttino uno mi dice che è digeribile se non ha l'acidità di stomaco ho la gola ormai è andata uno mi dice che è digeribile se non ha sete uno mi dice che è digeribile se non ha il peso alla pancia cosa è digeribile questo completamente a prescindere da quello che fate ci sono prodotti a bassa idratazione che sono digeribili prodotti con tanto lievito che sono digeribili io mi chiedo veramente pensate alla pasticceria cioè è assurdo ma basta pensare alla pasticceria e tutte le puttanate che ci portiamo dietro nella pizzificazione scompaiono nel niente ma se dovessimo usare per la pasticceria le solite idiozie che vengono promulgate e propugnate nella pizzificazione non dovrebbe essere digeribile niente croissant fatti in sei ore con manitoba con 20 grammi di lievito a chilo dovrebbero essere l'anticristo ma ragazzi le brioche sono fatte così scusate un pasticcere adesso mi sente dire brioche croissant allo stesso modo mi ammazza però capite il senso della roba cioè tutti i prodotti in cui si usa la farina senza farla maturare scindere predigerire tutte quelle robe lì è pieno non lo so voi pensate una crostata è fatta da farina e burro e la farina non è che subisce non è che matura lievita e gli enzimi si mangiano e quindi non li mangi tu non le digerisci tu no ma ripeto ma qualcuno dei grandi maestri che ogni tanto ci becchiamo in tv guarda alcuni sono miei amici ma non me ne frega niente ma vogliamo fare un ragionamento serio e sensato su sta roba qua ragazzi condividete sto video veramente allora ok parlando di glutine che costituisce una parte abbastanza piccola in una pizza considera che parliamo del 10 12% nelle più comuni farine per pizza poi ci metti l'acqua e il resto i condimenti praticamente sul peso di una pizza cosa avremmo il 5% di glutine ma certo ma certo ma perché le ragazze e come dice il pizzoso bravo bravo e spauro ci sentiamo poco ma pensiamo esattamente alle stesse cose io mi corsi dico esattamente alle stesse cose no perché ragazzi noi stiamo a farci le pippe mentali sulla pizza integrale con poco lievito eccetera e poi ordiniamo la quattro formaggi col crudo ma la realtà è questa qua noi stiamo a farci le pippe mentali su ste robe della digeribilità e poi andiamo in pizzeria e prendiamo la cheesecake e pensiamo alle tre ore in più di maturazione della pizza e di metabolizzazione degli amidi ma voi non siete conto che parlate del niente ma ragazzi i processi digestivi sono una cosa estremamente complessa a molti sfaccettature Angelo Forcella buongiorno Andrea se ti riferisci a me non mi chiamo Andrea sì esatto la gente ordina la salsiccia e zola però l'impasto è al kamut e poi volete che io non vada in giro con lanciafiamme ma ve lo meritate mozzarella che non brucia per esempio se mi hai chiesto se sia digeribile o meglio se sia pieno di digeribile ma certo esatto esatto perché partono delle mode e le si cavalca e tutto il resto poi diventa assolutamente marginale però sono devastanti sono devastanti e soprattutto sui processi ripeto la storia del portarsi da freddo inteso come freddo praticamente la solidificazione dell'acqua mettere gli impasti in cui dobbiamo favorire la proliferazione batterica in ambienti in cui la proliferazione batterica è inibita è un grosso controsenso quanto meno dovete saperlo e regolare quella cosa per fare in modo di sapere che cosa succede la il lavoro attuale che fanno in tanti è controproducente per il processo e per il prodotto che vogliono andare a fare si e tra l'altro esatto andare con lanciafiamme sulle persone sarebbe tanto altro carbonio rilasciato poi da bruciare e che quindi andrebbe nuovamente in atmosfera in inedride carbonica c'è ragione anche te eh si è una scelta difficile vabbè quanto tempo è che stiamo Pippo sono già tre quarti d'ora avete qualche domanda dai che stamattina incredibilmente ho un po' di diciamo di tempo ho detto no devo parlare di sta cosa perché con i corsisti ormai ne parlo spesso e a mio parere è una roba importante ho il libro della nonna che tu conoscivi l'adoro bene fare il processo di schifo e fare il mal di testa ho fatto un corso con il pasticcere francese top di gamma ricette il babà con 40 grammi di lievito osti ho fatto un corso con un pasticcere francese top di gamma ricette il babà 40 grammi di lievito di birra su 236 grammi di farina minchia alla faccia Gio ci dai una dritta sulla geronese si fai un corso con me ciao Carlo ciao Mattia ammazza 40 grammi lì siamo a siamo a 160 grammi di lievito a chilo di farina è un po' tantino ok far andare veloce e spingere però poi qual è il problema del lievito di birra usato in in così grosse quantità e che poi essendo il lievito esponenziale come attività sia per le quantità sia per le temperature questo inizia a produrre la fermentazione alcolica avete un odore che è è tremendo è sgradevolissimo il problema è la comunicazione che fanno quattro buffoni in giacca da chef per un momento fare addizione più di miglioratore i lieviti pompati in modalità di fare l'impasto che non riguarda il mondo pizza tutto assurdo Carlo ti sei perso una gran discussione ho avuto la fortuna di avere Paolo in diretta che fortunatamente ha confermato che non dico idiozie e quindi mi fa molto piacere ciao Albe ciao Albe ciao Roberto bello bella live no vorrei farne poi altre su questi argomenti perché cioè è importante perché poi sono le problematiche che io da consulente non trovo dei clienti il problema è che anche i clienti che allora ragazzi non è non è tutto poi riguardatevi il video chi non l'ha ovviamente lo lascio il problema è che ovviamente non è che tutti i pizzaioli devono poter avere competenze di un certo di livello tale da poter capire tutti i processi il problema è che se hai quelli di riferimento e Roberto li faccio anche in Skype e vengono benissimo basta guardare le recensioni e che quelli che dovrebbero essere punti di riferimento ti dicono le bagianate e tu magari ci credi anche se sei di buona volontà il problema è quello il problema è quello e e ripeto per chi come me da una vita fa formazione quindi si interessa di trasferire informazioni ed è maniaco di queste cose ci tiene molto allora ci tiene in un certo modo e fa in modo che la formazione sia fatta in un certo modo per altri a cui interessa non sono del settore diciamo e quindi più che altro dicono quello che sanno ovviamente non fanno non si rendono conto che poi se trasferisci le informazioni male e soprattutto se tu poi hai notorietà hai una grossa responsabilità perché se tu sei visto da milioni di persone e dici che solo la pizza che i prodotti con lievito madre sono più digeribili di quelli con lievito di birra tu hai una responsabilità è un'influenza negativa se non lo sai lo studi ok? se tu sai che vieni visto o comunichi con centinaia di migliaia di persone e dici cose che derivano da scarsa conoscenza luoghi comuni o altre robe sei responsabile quando fai comunicazione ripeto io sono manieco di questa cosa perché è una vita che faccio informazione insegnamento divulgazione queste robe qui però lo ritengo molto importante cavolo perché poi che cosa succede? che sulle persone veramente quando dici idiozie hai o le persone che non capiscono nulla come pubblico e allora non avrebbero capito nulla loro stessi e vanno avanti a fare quello che fanno oppure quelli bravi che ci rimangono male ma ragazzi sapete quanti corsisti io che vengono qui e dicono che grandi guru maestri pizzeoli sono tutta una massa di idioti e tra l'altro sono giudizi transcian che non sono meritano queste persone sapete quanti vengono e dicono ma sai Giovanni che XYZ è veramente un coglione io dico ma scusa ma come io lo conosco è un bravo professionista caspita sa quello che fa i prodotti sono eccellenti e mi fa eh sì ho capito ma lei spiega fa le cose dice le robe e non sono mai riuscito a riprodurre non capisco perché e perché e perché perché e perché è così perché è così è così esatto la credibilità te la danno i social e Luigi Germinelli il fatto che la pizza in teglia romana debba uscire a 21 gradi è una puttanata non è vero non è vero non è vero anche questo è un luogo comune ma chi l'ha detto che l'impasto di teglia romana debba uscire a 21 gradi è ovvio che non può uscire a 12 e non può uscire a 34 ma nel range 21-26 ad esempio fate quel diavolo che volete dipende dal processo che instaurate dipende dal processo che instaurate perché una pizza in teglia romana non può essere calibrata tra lievito temperature tempistiche uscendo a 25 gradi dall'impastatrice ma chi l'ha detto ma non è vero può essere fatto tranquillamente dipende è lo stesso discorso di prima la qualità dipende dal processo nel suo insieme non ci sono regole miracolose non c'è la temperatura perfetta alla quale deve uscire l'impasto di teglia romana non esiste non c'è la quantità di lievito giusta dell'impasto di pizza napoletana non esiste dipende dal processo che instaurate il processo è un insieme di equazioni che lega n variabili a n incognite scusate n equazioni in n variabili in n incognite quindi voi avete gli ingredienti la quantità degli ingredienti la temperatura finale dell'impasto la temperatura ambiente la temperatura di mantenimento e i tempi e poi cottura e via dicendo e come incastrate queste robe che vi fa arrivare al prodotto fatto bene che è anche il motivo per cui ragazzi io sono spesso così critico con la storia dei prefermenti ve la spiego ci sono in diretta Paolo e Carlo che anche loro non sono devo dire degli stupidi anche loro di cosine ne hanno assaggiate ragazzi io di teglia romana ne ho fatte e ne ho assaggiate ho fatto e assaggiato non mie le migliori del mondo ok quando voi mangiate una teglia romana da 9 non dico 10 perché la perfezione esiste ma una teglia romana da 9 è sempre allo stesso modo cioè una teglia romana perfetta è così che sia fatta con la biga che sia fatta col pulish che sia fatta con un diretto che sia fatta con il lievito madre che sia fatta con il lievito di birra quando la teglia romana è top è così perché perché non dipende tanto da quale processo hai usato ma da come hai usato quel processo ecco perché io tendo sempre a semplificare tutto perché se il risultato finale è funzione più di come gestisci il processo rispetto a quale processo usi e allora io scelgo il processo più semplice o no cioè ripeto la teglia romana perdendo un prodotto la teglia romana fatta bene quando è spettacolare quando è leggera quando senti il crunch e poi adesso si scioglie è sempre è fatta e deve venire così cioè non riesco a esprimervelo ma la mia bocca lo sa come no perché ne ho mangiate non dico le mie ho mangiato anche super teglie di tanti super professionisti ed è così a prescindere da come è fatta con impasti chiusi a 21 con impasti chiusi a 27 con bighe o con diretti con impasti misti con lievito madre birra o solo birra è così e quindi se dipende da quello io mi scelgo il processo più semplice cioè ma ragazzi ma mi pare veramente elementare eh bravo il concetto è questo il processo più semplice è sostenibile perché non è vero sempre dicendo la stessa cosa che se usi la biga la teglia romana ti viene meglio non è detto e però Paolo eh sì ma il problema qual è che troppi di quelli che parlano nell'ambiente pizza non hanno idea di cosa sia un processo sostenibile e vedere un processo nell'insieme su base aziendale imprenditoriale e questo è il problema quando fai il pizzaioletto andare spostarsi lì è un casino esatto voi non avete idea io di che processi ho sentito parlare robe incredibili un casino della madonna poi vengono da me vedono un diretto che è ridicolo ovviamente è fatto bene è ridicolo mangio la pizza e dicono e rimango li vedete i miei video rimangono tutti così anche perché vedono come l'abbiamo fatto e non ci credono senza la biga senza il lievito madre senza 600 pieghe senza i fermi macchina e le auto lisi e il coso e il cos'altro e sopra e sotto mangiatevi e Carlo va bien va bien ragazzi 50 minuti direi che bastano ragazzi vi abbraccio vi saluto mi raccomando fate i bravi condividete queste cose perché è importante ci vediamo alla prossima seguitemi sulla pagina io lo so che sono antipatico quando lo dico perché sembro il dio delle consulenze e quelle robe lì pensatela come volete ho senso semplicemente onesto e chiaro e voglio lavorare al meglio con voi io adesso sto fissando febbraio prima buchi non ce ne sono quindi se vogliamo lavorare assieme ragazzi vi dovete portare avanti e e non pensare che se mi chiamate oggi tra una settimana sono lì da voi mi spiace buona giornata domenica ho un corso qui quindi vi farò vedere qualcosina magari domani ci vediamo per l'impastino che vado a preparare grazie Paolo per la consulenza online e grazie a tutti gli amici della diretta vi abbraccio a presto ciao ciao